Un giorno smetterò di mettermi così, te lo giuro, ma mi piace, buonasera, bravo, grazie ragazzi, che bella contatto, dove ci hai portato? Allora, più che altro dove sono andato questa settimana? C'era il Festival del Cinema a Torino, quindi sono andato a fare un giretto, mentre stavo là ho beccato un personaggio, una grandissima, Margherita Fumero, la ricordate? La moglie dei Beruschi, ma anche più famosa perché ha fatto tanti film con Ormonnezza, con Thomas Millian, vabbè dai, vi rinfresco la memoria, andiamo un po' a guardare, guarda un po'. Marco, sì, sto qui a Torino, sì, devo fare intervista a Margherita, no, devo incontrarsi, senti, ma come faceva le battute sue? Aspetta, come diceva, se tu mi abbracciassi, se tu mi baciassi, se tu mi toccassi? E non mi va, Margherita, io eri qua. Nico, se adesso tu mi baciassi, se tu mi abbracciassi, se tu mi toccassi? Cassi? E se io devo scopassi? Sì! Eh, ma non mi va! La prima cosa ho fatto con il Teatro Stabile di Genova, con Luigi Squarzina, con le musiche di Gino Paoli, e devo dire che all'inizio dovevo cantare, invece poi l'ho fatto con un jukebox, quindi non ho cantato. Ok, quasi un pleite. Ciao, zio. Oh, ciao, cara. Devo parlarti. Anch'io. Tu vedi là in cucina, non fai più vedere. E poi mi sono conosciuto Macario, e Macario è stato il mio grande maestro, mi ha insegnato i tempi comici, ma ha detto, con quella faccia lì, cosa vuoi fare all'attrice drammatica? Fai ridere. Sei un infame e un vigliacco, spacciatore d'inganni. Ho fatto prima il Teatro con Macario, e quell'anno, proprio il Teatro, l'autore erano Corbucci e Amendola. Devo tutto, devo tutto a Macario, a Bruno, ad Amendola, quindi veramente sono stati... Diciamo che sei partita la grande, proprio. Sei verticone, lo è un uomo felice. Vedo, mo'. Cosa hai detto? E poi Drive-In, che è stato il momento proprio che l'Italia si fermava per vedere Drive-In. La domenica sera, con Beruschi. Era proprio il momento... Tu eri proprio la famosa moglie di Beruschi. Genosa, genosa, eccetera. Rompi coglioni, se vuoi dire. Enrico, cosa facevi qui con queste due ragazze? Ma sono bambine. Io dico sempre di essere fortunata, ma io credo che se tu la vuoi, la fortuna ti arriva, no? Devi sempre essere pronta e pensare in positivo. Anche perché poi questa fortuna la ritroviamo poi nella coppiata con Corbucci. Corbucci, poi è stato con Thomas Viglia. Thomas Viglia, per esempio, mi ha insegnato, io recitavo un po' teatralmente, e lui mi ha insegnato come si recita nel cinema. Nico, il mio vero grande amore sei sempre stato tu. Eppure te per me. Io a Roma, quando guardavo i sarcofaghi e i ruderi, pensavo sempre a te. E quando facevo la prima volta a Miami, dovevamo girare nelle paludi. Nico, guarda, questo è il nostro regno. Noi vivremo sempre qui, come Tarzan. Io sono Tarzan, e tu sei cita. No, io Jane, lui cita. Io cito. Io non so neanche nuotare, poi ho paura da morire, e avevo un po' paura, e c'erano i coccodrille. Dico, Bruno, scusa, Bruno, ma ci sono dico, stai tranquilla, abbiamo messo delle reti, tu vai tranquilla. E io, io ho detto all'operatore, mi fai una foto, metti io sono così. Sono arrivata in Italia, l'ho sviluppata, io sono tutta sorridente con un coccodrillo che sta passando sotto di me. Dopo quattro anni siamo tornati a fare cane gatto, la truppa americana, parlavano ancora di questa attrice italiana che girava in mezzo ai coccodrilli senza battere i cigli. Sorpresina! Oddio, la gatta mammuna. Ma che sei diventata matta? Sei sciroccata? Vogliamo fare un saluto a Andrea, Marco Giussi, tutti gli amici estragulchi, come farebbe Maria Sole però. Vi voglio bene. Formissima Margherita. Mamma mia, mamma mia. Una più bella dell'altra queste interviste che fai e vorrei sapere se ci puoi dire qualcosa della settimana prossima. Settimana prossima no, perché sempre, come sempre, manco lo so se ci sarò la settimana prossima, non so se lo trovo il personaggio però in mente qualcuno che sta sempre, insomma si tratta sempre di Monnezza, di Thomas Millian, a che fare con lui. Quindi gli stracultisti stanno attenti. Sì, sì, rimanete attaccati. Ma andiamo avanti con il programma, G, perché è arrivato il momento. No, però scusa, so che Michele e Mirko devono andare. E chi te l'ha detto? Eh lo so, ci hanno da fare... Ma c'avete i segreti? Sì, vabbè, a una certora. Vabbè, vabbè, vai, vai, Michele e Mirko, e portali via, portali via, nel frattempo... Te lasciamo Ale. Vabbè, raga, mi raccomando, eh. Grazie, grazie. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Fate i bravi, vi prego. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.